Sindaco Rucci, tutto pronto per la dodicesima edizione del premio Rocchi Marciano? Ancora un'edizione da record con grandi nomi Gianni Rivera, Massimo Oddo e non solo. Sì, sicuramente questa dodicesima edizione è stata organizzata dall'amministrazione comunale in modo particolare seguita dall'assessore Parladinetti e abbiamo rafforzato quello che è il premio Rocchi Marciano anche con un discorso culturale e sportivo perché al di là del giorno 16 che faremo la premiazione a questi grandi campioni che comunque si sono distinti, queste quattro giornate dedicate al premio Rocchi Marciano sicuramente porterà a Ripa Tiatina tantissima gente e quindi Ripa sarà la vetrina dell'Abruzzo in quei quattro giorni. Il primo appuntamento è il 9, cominceremo con una mostra tra arte e box e la quarta edizione e arriveranno opere importanti dell'arte moderna. Il giorno 13 avremo gli incontri di Pugilato con la Diodato e un interregionale Abruzzo contro Lombardia Il 14 di luglio si parlerà di sport e diritti umani con Riccardo Nuri, il presidente di Amnesty International poi avremo la presentazione del libro di Dario Ricci, i ragazzi di Brema e poi il giorno 15 avremo una bellissima giornata che si parlerà di sport e disabilità. C'è un premio importante al giovane Giulio Ciccone con la sua bellissima vittoria al Giro d'Italia Diletta Cipollone, la campionessa italiana di Pugilato avremo le squadre che quest'anno è stato un anno di Serie A il Chieti Calcio Femminile che è in Serie A poi avremo con lo scudetto del Montesilvano Calcio A5 sempre femminile avremo la GM Ouvini del presidente Marchesani con le sue bellissime vittorie internazionali e poi il pesca da calcio per il ritorno in Serie A Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!